Si chiama René Gould, è una bellissima donna che a 62 anni di età indossa abiti piuttosto scollati, bichini succinti e per questo riceve delle critiche aspre, forti, feroci nei suoi confronti e nei suoi riguardi. Molti infatti le avrebbero scritto dovresti vergognarti alla tua età indossare minigormi, abiti scollati, bichini, abiti succinti, in questo modo, vada in questa maniera a dispetto dell'età che porti. E poi la donna ha sempre curato se stessa, rimini in dettagli e non mostra alcun tipo di cedimento o forma di vergogna nel mostrarsi così in una maniera sexy, piacevole, gradevole e garbata, utilizzando degli strumenti sexy come per l'appunto le minigormi, bichini succinti e abiti che mettono in risalto il suo florido nonché straordinario décolleté. E poi le critiche non mancano vergogna di farla finita, smettila, ma nonostante questo la donna va avanti e mostra fieramente il suo corpo, senza sé, senza ma e senza problemi risolta. Sembra infatti che la donna abbia in sé il fatto che il tempo non sia ancora passato e che continui a essere tra virgolette e giovane per sempre. Iscrivetevi al canale e dà le tue idee, hanno commentato e compri interne in Google.